I flash sono arrivati prima per lei, sensuale, con un abito aderente sul seno e svasato sotto nero. Ai piedi scarpe particolari altissime. Poi è stata la volta di lui, compagno di vita oltre che di lavoro. Luisa Ragneri e Luca Zingaretti, legati da 2005 ai genitori di Emma, nata nel 2011, sposati dal giugno 2012, sono tornati a far coppia pure sul set. Dopo dieci anni dalla fiction cefalonia, quella che li ha fatti innamorare. Sono i protagonisti su Re 1 di Il Giudice Messia...